Cari amici e devoti di Santa Maria dei Miracoli, rieccoci ancora sugli schermi del nostro santuario per rafforzare questo tempo di avvento. Abbiamo già celebrato la terza domenica, siamo nella terza settimana di avvento dove iniziamo proprio in questi giorni dal 16 al 24 dicembre, i giorni più prossimi al Natale che per tradizione chiamiamo ancora la novena del Santo Natale. Vogliamo proprio guardare a Maria, ci siamo incontrati per l'Immacolata proprio in questo santuario perché Maria è la porta dell'avvento e questo è una bella cosa, è un segno di speranza, di consolazione, una madre che non ci abbandona, una madre che ci accompagna giorno dopo giorno, una madre che ci dona suo figlio che è il salvatore di tutti noi. Allora ci prepariamo a vivere un Natale certo particolare per questo tempo di coronavirus che ci affligge per le preoccupazioni della pandemia, ma un Natale che deve diventare autentico, riscoprire il vero significato del Natale perché il Cristo rinasca nei nostri cuori. E Maria la porta dell'avvento, il sostegno della nostra fede, la causa della nostra gioia deve aiutarci a ritornare a questo Dio che ci ha creati con amore, ci ha creati per amore e vuole il nostro bene. Quante volte cantiamo nelle liturgie sei tu Signore il mio unico bene. E allora se il bene per eccellenza è il Signore, questo Signore è dentro il nostro cuore, sapremo affrontare qualsiasi situazione che la vita ci riserva, anche drammatica, anche di sofferenza, qualsiasi giornata grigia che la vita ci riserva, la sapremo affrontare con il sole, cioè col calore che il Cristo, sole di giustizia, irradia e riscalda i nostri cuori. Allora gli angeli che in questo nostro santuario quest'anno hanno fatto da corona d'avvento saranno gli angeli che canteranno il Natale, quel Natale cantato dagli angeli, quel Natale dove i pastori hanno scoperto per primi la nascita di Gesù perché il primo annuncio è andato ai pastori e quel bambino che sarà poi adorato ed è stato adorato dai magi venuti dall'Oriente. Questo è il mistero del Natale che celebreremo fra pochi giorni. E allora proprio da questo luogo privilegiato, come recitiamo nella preghiera Santa Maria dei Miracoli, rinnoviamo il nostro spirito ad accogliere Gesù nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, ma soprattutto nel nostro cuore. Buona novena di Natale a tutti voi per un Natale vero, un Natale autentico, un Natale cristiano. Grazie a tutti.